Vediamo un po', dovremo essere in diretta, così reca il nostro countdown, quindi buonasera a tutti quelli che si stanno collegando o che si sono già collegati e siamo ritornati nel nostro spazio, passeggiando nel Novecento e come sempre Davide Lamantia. Ciao Davide. Ciao a tutti, quel che resta di Davide Lamantia dopo una forte infreddatura dovuta agli sbalzi tra scuola e esterno. Però insomma resisto, Babbo Natale non si ammazza così facilmente. Non si ammazza, no? Rimane, rimane qui con noi. Buonasera Marco e tutti quelli che si stanno collegando man mano. Buongiorno Michele, tu sei a scuola? No, non è a scuola serale, buonasera. Ciao, ciao Cristina. Questa sera abbiamo questo nostro appuntamento, un appuntamento femminile, possiamo chiamarlo così perché parleremo di tre grandi poetesse o poete? Come si dice Davide? Allora la Cavalli, in una bella intervista di una decennia di anni fa, disse che lei sin dagli anni settanta, da quando ha cominciato a fare poesia, voleva farsi chiamare poeta, perché poetessa gli sembra ridicolo. L'ha detto lei, non lo dico io. Prima che non lo dico, ma l'ha detto lei, io riprendo una sua intervista, potete verificare, mentre la Pozzi credo avesse altri problemi su che non farsi chiamare poeta, poetessa. Della Guidacci si farà un discorso, nel senso che la Guidacci si pose anche in opposizione a certo modo di sentire dell'epoca. Io non so con cui vogliamo cominciare, con la Pozzi? Con l'enigma Pozzi? Io direi che come avete già capito, questi saranno i tre nomi di questa sera e iniziamo da Antonia Pozzi. Allora, Antonia Pozzi. Antonia Pozzi è, posso usare l'espressione, un'invenzione del 1980 o giù di lì, quando una suora recuperò finalmente tutto il materiale originario e originale di Antonia Pozzi. Perché la storia della Pozzi è, purtroppo, tragica e triste insieme. Era figlia di un grandissimo avvocato di Milano, importante, e di una nobile donna, veramente di tradizione. Erano estremamente ricchi, piuttosto bigotti, un'atmosfera religiosa molto chiusa, molto chiusa. Sembra di essere a casa Leopardi. La Pozzi stesso raccontava come non ci fosse un abbraccio, non ci fosse un momento di scambio con questi genitori così distanti, così oppressivi nel loro modo. Nasce nel 1912. Vediamo un po' di fare un quadro. Lei fu grandissima amica di Vittorio Sereni, che era nato nel XIII. Nel XII erano nati due dei più importanti poeti ermetici, cioè era nato Parrunchi ed era nato Bigongiari. Quindi entrambi erano uno di quelli. Mario Luzzi era del 1909. Ecco, proprio per segnalare il momento in cui lei agisce. E sottolineo un altro aspetto ancora, che nel 1911 erano usciti i colloqui di Gozzano, i codici di Perelà di Palazzeschi. Quindi l'anno prima della sua nascita era un grande momento di discussione tra il movimento crepuscolare e il movimento invece avanguardista futurista. Ecco, la Pozzi va inserita in quest'ambito. Fa un percorso di studi, direi importante, nelle scuole private. Poi finisce all'università. Ma nelle scuole private si era innamorata, ricambiata, del proprio professore di lettere. E questa fu la cosa che il padre cercò in ogni modo di oscurare. Cioè, quando trovò le poesie della figlia, che vennero pubblicate postume, col titolo di parole, lui espuntò completamente il nome di questo professor Cervi, a cui lei aveva dedicato diverse poesie. Perché erano tantissime le poesie di Antonia, ne lasciò solo una novantina. E le altre, poi tutti i diari, le lettere, tutte cancellate anche a penna o comunque occultate, arrivarono a questa suora solo negli anni Ottanta. E quindi il caso Pozzi comincia negli anni Ottanta, quando si comincia a leggere Antonia Pozzi come una poetessa importante, come un elemento di raccordo tra i poeti nati alla fine dell'Ottocento, gli Sbarbaro, i Saba, gli dicendo, e quelli del 1900. Un'ultima cosa, del 1912, l'anno di Antonia Pozzi, è Giorgio Caproni. E non è un caso. Cioè, evidentemente in quel momento storico, oggi cerco veramente di fare delle mappe, per cercare di ricostruire, no, questo personaggio. Ecco, la Pozzi ha uno stile poetico molto particolare. Perché certo risente del crepuscolarismo, queste passeggiate nella natura, che ricordano le passeggiate degli amanti, le passeggiate dei malati, di Onofri, di Moretti, dello stesso Corazzini, che era un poeta amatissimo dalla Pozzi. Però, nel crepuscolarismo, c'è la rassegnazione per una morte ormai imminente. La Pozzi non è così. La Pozzi, anzi, anela a vivere nella natura. È in questa natura che lei descrive queste montagne intorno l'Ecco, questo splendido panorama che circonda la sua villa di campagna, dove lei ama andare in bicicletta, spostarsi, dove lei ama raccontare quello che prova. C'è molto Leopardi. Perché? Perché Leopardi aveva lavorato sugli idilli. I nuovi idilli di Leopardi rispetto a quelli di Teocrito partivano da una raffigurazione della natura e poi si allargavano una riflessione filosofica. È questo che fa La Pozzi. Tant'è vero che La Pozzi si laurea con Banfi, che è un filosofo, un filosofo importante di primo novecento. Si laurea, fra l'altro, con una tesi sullo scrittore francese più volte processato, perché proponeva un'immagine della donna che era assolutamente nuova di fine ottocento. Sto parlando di Flaubert e di Bovary. Si era laureata con una tesi su Bovary, che poi venne pubblicata postuma. Ovviamente tutto quello che noi abbiamo è postumo. Non ha pubblicato niente, se non alcune poesie che arrivarono in una piccola rivista e vennero pubblicate lì. Però La Pozzi era sostanzialmente sconosciuta. Si discusse molto anche sul suo suicidio. Anche su questo vorrei tornare su un elemento, secondo me, chiave. Molti suoi compagni di scuola dell'università si suicidarono. Lei era compagna di scuola di Guido Morselli. Guido Morselli, il fascistibile, Roma senza Papa, il grande scrittore del novecento. Si ammazzò sparandosi. Era compagna di scuola di Manzi. Non Manzi il maestro, quello che insegnava. Manzi era un giovane scrittore eteniano di primo novecento. Anche lui si suicidò. Cantoni si è suicidato. Allora c'era un'atmosfera, secondo me, di disperazione. molto vicina a quell'espressionismo austriaco e tedesco che a lei piacevano tantissimo. Penso a uno Cine, a un Kokoschka, dal punto di vista pittorico. Penso a Musil, tanto per citare qualcuno. Ecco, lei aveva anche quell'ambiente come punto di riferimento. Quindi, contrapposizione natura, società. Lei frequentava i migliori salotti della Milano-Benedi allora, ma non ne parla mai. Lei parla delle aquile, dei cervi, delle punte, delle montagne. Parla del lago. Parla di tutto quello che gli sta di fronte. In tutto questo c'è una religiosità, che è divisa in due parti. Da una parte c'è la religiosità imposta dai genitori, vistuta con sofferenza. Nella lettera da Dio, che il padre fece sparire, parlò di disperazione mortale. Di insofferenza a un ambiente religioso opprimente. Ma lei non rifiuta la religione, rifiuta quella religione, quella bigotteria di fondo. E quindi le sue poesie mostrano un'estranetà. Parlerà di uccelli che cadono leggeri a terra. Cioè, una morte quasi che viene a liberarci da una sofferenza nel vivere, da un'angoscia intollerabile. E lei più volte, ma anche nelle poesie che stasera presenteremo, va su quest'ambiente. Il padre fece credere che lei era morta di polmonite. Perché un suicidio era chiaramente qualcosa di terribile. Fino al 1963 i suicidi erano sepolti in terra sconsacrata. Non veniva fatto un funerale. Non venivano messi i simboli religiosi. Dopo il concilio Vaticano di secondo, cambiò. Quindi la situazione venne messa a tacere dal padre, ma lei aveva lasciato una lettera. Si era imbottita di barbiturici. Andò fino all'abbazia di Cheravalle e, piena di barbiturici, si lasciò morire di freddo e di avvelenamento. Questo è quello che lei fece. In bicicletta andò di notte. Quindi una scelta liberatoria. Per certi versi mi sembra la scelta di una Virginia Woolf che si riempie le tasche di sassi e entra nell'acqua. O di una Sylvia Plouffe che infila la testa dentro il forno. Una liberazione rispetto a una vita insopportabile. Che cosa c'è da salvare di Antonia Pozzi, di tutto questo suo raccordo? Intanto va studiata davvero, mentre veramente per una marea di anni, Lemolo del 38, a 26 anni, per una marea di anni l'abbiamo dimenticata, cancellata completamente dalla storia. Quindi intanto studiamola, vediamo i rapporti con gli altri autori del tempo, come sviluppò il suo percorso e poi ne daremo un giudizio critico che sia, secondo me, definitivo e importante. Sta lasciando ora una critica seria su Antonia Pozzi, con Alfonso Berardinelli, con Marchesiello, con altri autori che in qualche modo la stanno portando avanti. Poi mi piace molto questo, quando lei parla di Pasturo, qui vicino a Leccon. Ah beh, sì, è quello, era la villa, ed è anche più o meno il luogo dove è sepolta lei. Sì, io sono distante neanche un'ora, ed è veramente, poi lì c'è il resegone, di Manzoni e Manzoni. Eh certo, sono i luoghi manzoniani quelli, sostanzialmente Lecco è lì, ha un tiro di schioppo. Esatto. Bene, vado a leggere questo primo testo che si intitola Certezza. Tu sei l'erba e la terra, il senso quando uno cammina a piedi scalzi per un campo arato. Per te anodavo il mio grembiule rosso, e ora piego a questa fontana muta, immersa, in un grembo di monti. So che a un tratto il mezzogiorno sciamerà coi gridi dei suoi fringuelli. Fringuelli sgorgerà il tuo volto, nello specchio sereno, accanto al mio. È molto bella, avete sentito gli echi, cioè echi di Pascoli, di quell'ambiente, di quella natura pascoliana, i fringuelli, il volto nel lago, il terreno arato, veramente sembra, ci sono poesie di Pascoli, siamo Arano, per esempio, tanto per ricordarvi Leone, proprio questo ambiente. Poi c'è l'ecomanzoniano, dei luoghi, di questo ambiente stupendo. C'è tante cose, è veramente molto ricca, nel senso che si vede che era una persona che aveva una cultura molto elevata, veramente molto ampia, della poesia contemporanea. La conosceva a pieno e la sviluppava molto bene. E ci sono immagini molto crepuscolari, il camminare scalzi. Proprio da un'idea crepuscolare, Corazzini parla di cose quasi uguali a queste. Vai, passiamo un'altra, vai. Leggo due commenti che sono arrivati. Maria Teresa Bari, religiosa, delicatezza, Rosa Maria Cerone, che tenerezza. Perché questo arriva, no? Sì. Se lo chiamo il cane. Ecco, il cane è qua e che saluta tutti. La prossima poesia si intitola La Vita. Alle soglie d'autunno, in un tramonto muto, scopri l'onda del tempo e la tua resa segreta, come di ramo in ramo, leggero, un cadere d'uccelli cui le ali non reggono più. E' veramente fantastico. Allora, prima di tutto quel di ramo in ramo arriva a Montale. Quando Montale scrive la languilla, di ramo in ramo, di macigno in macigno, sempre più a dentro. Quindi aveva in mente, in quel passaggio, La Pozzi. E questo mi colpisce. Anche perché Montale fu uno di quelli che si batte per La Pozzi. Appena uscirono quelle parole, cioè quella raccolta di cui parlavo prima, Montale era un talent scout. Questo va detto. Scoprì Svevo, quando Svevo era cancellato dalla memoria. Scoprì Saba, quando Saba era considerato un minore e un locale. Ha scoperto Tozzi. Ha scoperto una marea di gente. Ero veramente uno scopritorio di talenti. E quindi, in parte, anche La Pozzi rientra in questo discorso montaliano. Un'altra cosa che ti volevo dire. Questo cadere leggero di uccelli, cui le ali non tengono più. Allora, queste sono immagini bodelareane. Cioè, l'immagine degli uccelli che precipitano, che non hanno la forza di alzarsi. Voglio dire, anche l'albatros è un uccello che fa fatica a salire l'alto. Ma comunque l'immagine bodelariana. Ma poi c'è Pasquali, quando dice di foglie è un cadere fragile. Dice Pasquali. Qua, invece, è un leggero, un cadere. Però l'idea è la stessa. È la stessa di novembre. E anche lì c'è questa atmosfera malinconica, triste, estenuata, voglio dire. Veramente esangue, estenuata. Ecco, diamo una considerazione e una domanda. La prima considerazione è Sandra Maria Dami. Antonia Pozzi, la poeta dei momenti fragili e pur immensi. Istruggente la lettura delle sue poesie. Ecco, poi c'è questa domanda che fa Ernesto, Ernesto Torta. Una domanda per Davide che ritengo importante. Alcune morti gridano più forte della stessa vita. Ma quanto c'è di esagerazione in molti poeti nel cercare il suicidio da condizioni privilegiate, spesso rispetto alla poesia, degli ultimi che ogni giorno lottano per la propria vita? Ma una domanda formidabile. Ti potrei anche arrivare a dire, Ernesto, che Laplace, secondo me, non aveva intenzione di suicidarsi. Aveva calcolato tutto perché arrivasse la sua domestica, perché suonasse qualcuno, perché in qualche modo era un gesto dimostrativo. Certo, tu dici oggi come si può vedere il suicidio rispetto a una condizione di vita in cui la gente soffre nell'andare avanti, soffre nel portare avanti un'esistenza magari di grande fatica, di grande distruttività. D'Arkheim, nel saggio Il suicidio di fine ottocento, sosteneva che nelle società occidentali molto spesso il suicidio nasconde il vuoto di valori che questa società esprime. In qualche modo anche Freud sostiene la stessa cosa. Quindi può darsi che queste persone il suicidio lo vivessero come il vuoto che portava questa società e che non gli permetteva di reagire. Ricordati sempre che di suicidio ne esistono due, è Dante che ce ne insegna. Uno è il suicidio di perdere vigne, che è un suicidio di vergogna, è un suicidio di ambizione rotta, di disperazione. L'altro suicidio, che è quello di Catone, è un suicidio eroico. Se non si può vivere bene su questa terra, non è che mi ammazzo per vergogna, ma mi ammazzo per cercare un mondo dove possa veramente affermare la mia volontà. Quindi esistono tanti modi di suicidarsi, non uno solo. C'è il suicidio altruistico, c'è il suicidio egoico. È un discorso molto ampio e c'è stato scritto tanto su questo. Ecco, direi di leggere la terza poesia di Antonia Pozzi che si intitola Grido. Vai. Non avere un Dio, non avere una tomba, non avere nulla di fermo, ma solo cose vive che sfuggono. Essere senza ieri, essere senza domani, è da cecarsi nel nulla. Aiuto per la miseria che non ha fine. Eh sì, qui essere nel flusso della vita, solo questo chiedeva Antonia Pozzi, ragazzi. Essere nel flusso della vita. E purtroppo sentiva di non esserci. Sentiva di essere invece ferma. Proprio lei che voleva essere invece nel volo degli uccelli, nel vento, voleva essere nelle cose, voleva appartenere panicamente all'esistente. Invece era vincolata da una serie di imprimatur, di doveri, che in qualche modo la schiacciavano. E questo è il motivo tragico della sua fine. Io penso, eh, non esiste una versione definitiva, al di là della sua lettera, che è la lettera di grande disperazione. Esatto. Ecco, leggo l'ultimo commento e poi passiamo alla Guidacci, se no non siamo nei nostri tempi. Franca, che saluto a Limo, io credo che per gli artisti il suicidio sia un modo di attingere l'assoluto, un'eccedenza di sensibilità. Un'altra valida interpretazione. Margherita Guidacci, che cosa ci dici? Allora, Margherita Guidacci, sempre fatto storico, è del 1921, morirà poi, mi pare, nel 92. Nel 1921 ha un significato, perché nel 1921 lei nasce a Firenze, Firenze è la città delle giubbe rosse, è la città del movimento ermetico. Tutti quei nomi che vi ho fatto prima, cioè Luzzi, Bicongiari, Parronchi, Betocchi, erano tutti operanti a Firenze. Anche Gatto si trasferì a Firenze. Il giovane Ungaretti partecipò a Rignoni, era a Firenze. Montale ne fece solo due o tre, poi si tolse. Fortini partecipò a una, gli bastò. Però Firenze è il centro del movimento ermetico. E Margherita Guidacci viene ricordata perché lei rifiutò di appartenere al movimento ermetico. Voglio farvi capire questo passaggio. L'altra volta vi lessi, se ricordate, anzi Mattia lesse, meravigliosamente, il famoso distico Carlo Bo, no. E Carlo Bo è l'ideatore, il pensatore alla base del movimento ermetico con letteratura e vita del 1938. E lì si diceva che la parola aveva anche di magico. La parola era musica. La parola non doveva comunicare un messaggio. La parola si doveva allontanare il più possibile dalla realtà contemporanea perché la realtà contemporanea era sporca, segnata dal male, segnata dalla sopraffazione. Allora il modo per salvare la parola e la poesia era portarli al di sopra di questa realtà. Questa era l'offerta. Il pensiero ermetico con Solaria, con una serie di riviste importanti, la Guidacci rifiutò di farne parte e disse con molta chiarezza che per lei la parola era comunicazione. La parola non poteva essere solo magia, solo musica, ma doveva anche comunicare. E in questo modo criticava quello che facevano gli ermetici, che facevano delle poesie straordinarie sul piano musicale, ma erano appunto ermetiche, da ermete trimecisto, cioè segrete, oscure, inconoscibili quasi, appena attingibili, no? Quasi da un veggente più che da un poeta. Ecco, lei rifiutò di fare questo e scelse una strada che è una strada minimalista, è una strada di buoni sentimenti, di piccoli e buoni sentimenti, una strada che nel 1946 la portò con angeli e sabbie, mi pare, a vincere il premio Grazie, che era il premio Le Grazie, era un premio importante allora, era più importante, ancora non c'era il premio Montale, il premio Viareggio Re, qualche via dicendo. Quindi era il premio che segnalava, e lo vinse per i merito con l'ottimo Sandro Penna, di cui parleremo la prossima volta. Penna, Caproni, abbiamo citato, perché siamo lì, siamo in questo periodo, no? Sì. E quindi lei cominciò questo percorso, era un percorso molto semplice, educato, un percorso in cui c'è un grande rispetto della natura. Ecco, questo è un elemento che secondo me l'avvicina abbiatamente la Pozzi. Sono poetesse, o poete, reddicono tutte, due mo' poete e virgola poetesse, che in qualche modo si avvicinano alla natura, hanno con la natura un rapporto privilegiato, non solo, creano con la natura quasi un momento simbiotico. Voi dite, ma allora questo è D'Annunzio, anche D'Annunzio fa panismo. In D'Annunzio è l'io del poeta che va a inglobare tutta la natura, è lui insieme a Ermione che ingloba con la sua volontà tutta la pineta di San Rossore nella pioggia del pineto. Invece qua non c'è un rapporto dell'io privilegiato nei confronti dell'esistente. Solo sullo stesso piano c'è uno scambio, c'è un flusso di vita in cui la poetessa intercetta ogni tanto dei lampi. E questa è la sua abilità, il cogliere il lampo che arriva dalla natura e saperlo rendere, saperlo rendere con immagini che sono semplici, con una scrittura molto equilibrata, quasi classica direi. Una cosa importante da dire subito della nostra poetessa è che fu una grande traduttrice e fu soprattutto traduttrice della Dickinson. Quindi la Dickinson è un marchio di fabbrica, in qualche modo è importante, tradusse anche Srapound, tradusse poeti che secondo me hanno dato, nel suo modo di scrivere, un'impronta. Un'impronta, ma ripeto, la cosa più importante è il messaggio, è la comunicazione. Lei a questo non rinuncia mai. Sacrifica la musica, sacrifica magari gli effetti, ma vuole comunicare. E vuole comunicare buoni sentimenti, sempre buoni sentimenti. È una poetessa di buoni sentimenti. Stavo per dire, forse è stata dimenticata anche per questo? Perché magari oggi si privilegia una linea diversa? La sua è una linea antinovecentesca, chiaramente. È una linea caproniana, sabiana, pegnana. È una linea che è lontana dai trombi dei suoni e dai festeggiamenti di una poesia grassa, esuberante e gotica. E questo è quello che volevo dire. Bene, allora io leggo di Margherita Guidacci, Stella Cadente. Va. Alcuni desideri si adempiranno, altri saranno respinti, ma io sarò passata splendendo per un attimo. Anche se nessuno mi avesse guardata, risulterebbe ugualmente giustificato per quel lucente attimo, il mio esistere. Vedi? Intercettare quel lampo dell'esistenza. Cioè quella Stella Cadente, quel lampo lì, è il momento in cui si manifesta pienamente l'esistere della poetessa. È quasi un'allegoria da questo punto di vista, no? La brevità della nostra esistenza intercettata in quella luce, in quella luce splendente, accecante. Vediamo la prossima. È come una mancanza di respiro ed un senso di morire quando mi stringe improvviso il desiderio di te, tanto lontano, e nulla può calmarlo. Altro pensiero non può fare, che sarebbe per me lo starti accanto, ma poiché ciò me negato, più cara, molto più cara, ad una fredda pace, mi è la stretta indicibile, quasi marchio di fuoco che proclami ancora e sempre quanto sono tua. A nessun costo vorrei separarmi da questo mio dolore. Enzo, lomma, se il dolore è la chiave che ti permette davvero di riconoscere l'amore, di essere parte, di condividere, allora questo dolore vale la pena di viverlo fino al fuoco. Cioè, c'è un'idea, io ripenso a Sbarbaro quando diceva Taci, anima stanca di godere e di soffrire all'una e all'altra, vai rassegnata. Il dolore è una parte dell'esistente, il dolore è in qualche modo un modo attraverso cui l'amore si può realizzare. E poi c'è questo insieme di immagini che circondano sempre la poetessa, l'interno anche del rapporto d'amore, la natura è una presenza costante, è una presenza a quale lei non può rinunciare. È vero. Commenti? Vediamo un po'. Franca Laimo, recentemente la Macabor ha dedicato un bellissimo volume alla Guidacci, è vero. Maria Concetta, Giorgi, che saluto. Quante volte ho letto questa poesia della Guidacci, ma che belli che sono questi momenti di letteratura. Un abbraccio, Conci. Michele, il dolore a forma di carezza esistenziale, Anna-Lisa, Mercurio, è che chiusa il dolore che permette di sentire. È veramente spettacolare, quasi ossimorico, no? Della struttura. È fortissimo. È fortissimo. Questa poesia, terza di appunto Margreta Guidacci, si intitola All'ipotetico lettore. Ho messo la mia anima fra le tue mani. Curvale al nido. Essa non vuole altro che riposare in te. Ma schiudile, se un giorno la sentirai fuggire, fa che siano allora come foglie e come vento assecondano il suo volo. E sappi che l'affetto nell'addio non è inferiore che nell'incontro. Rimane uguale e sarà eterno. Ma diverse sono talvolta le vie da percorrere in obbedienza al destino. A parte la classicità strepitosa, ma diverse vie ci riportano a casa di Catullo. È bellissimo, no? Diverse vie, diversas. È proprio questo finale classicheggiante, ma bellissimo. E poi l'idea, l'idea ancora una volta che la sofferenza e il piacere siano parte della stessa cosa, no? Siano in qualche modo una circolarità. Come la natura è circolare, sorge il sole e poi tramonta, così anche noi apparteniamo a questo. Circolare poesia è circolare questa poesia. È bellissimo. Io amo la guidaccia in questo senso. La trovo... Hai visto poi il lessico? Foglie, dita, mani. È un lessico di cento parole, come dico io. Ma con quelle cento parole, se le combini bene, puoi ottenere effetti straordinari. Non hai bisogno di fare effetti speciali. Lei non li cerca. Cerca la semplicità. È la semplicità del dire che però esprime una forza, una potenza travolgente. Patrizia Cavalli. Ah, allora, qui tocchiamo un dato, secondo me, importante. Guarda, ancora una volta, una mappa storica. La Cavalli nasce nel 1949, oggi 72 anni. Nel 1951 nasce la Gualtiene. Nel 1952 nasce la Cambiani. Nel 1953 nascono Silvia Brè e Patrizia Valduga. Cioè, nel margine di 3-4 anni abbiamo le nostre 5 maggiori poetesse viventi. Questo è molto interessante, perché dal 1949 al 1953 c'è veramente una fioritura di voci poetiche al femminile, voglio anche sottolinearlo, al femminile. E quasi tutte hanno in comune secondo me, l'attenzione alla figura femminile. Cioè, finalmente, questa figura femminile viene slegata dai compiti tradizionali che ne sono attribuita. Vedremo poi la poesia che era in copertina, in datura, del 2013, che è una poesia fulgurante da quel punto di vista, un atto di ribellione, vero e proprio, rispetto alla società in cui si agisce. Bene, Patrizia Cavalli è una poetessa per certi versi unica, è tradotta, non so in quante lingue, è conosciutissima anche all'estero. dicevo che secondo me abbiamo delle ottime candidate all'open. Le nostre, queste cinque poetesse che ti ho citato, non so se tutte e cinque, ma due o tre almeno, sono le candidate credibilissime, tradorte in, ti ripeto, venti, trenta lingue. Quindi, assolutamente importanti. La Cavalli nasce soprattutto come amica, confidente di Elsa Morante. Negli anni 60 e 70 lei, giovanissima, giovanissima soprattutto alla fine degli anni 60 e per buona parte degli anni 70, è il riferimento di Elsa Morante. Elsa Morante che la porta avanti, la sospinge, cerca di farle scrivere, esordisce con una raccolta poetica di metà anni 70 che secondo me è una dichiarazione di poetica. Cioè, le mie poesie non vogliono cambiare il mondo. Che è, veramente, qual è l'ambizione maggiore che ha un poeta? L'ambizione maggiore che ha un poeta è far sì che le sue poesie diano un segno nel mondo, in qualche modo cambino, se non il mondo, le persone che le leggono. E invece lei parte con una raccolta in cui dichiara l'opposto. Dichiaro l'opposto ed è incredibile perché poi invece tu ti aspetteresti una poesia ribellistica, una poesia di rottura e invece sonetti, ballate, canzoni, endecasillabo, sistematico, qualche settenario, una metrica legata alle rime. Cioè, ti aspetteresti la ribellione, la rottura e la cavalli e invece è il massimo del rispetto della tradizione. Allora, attenzione, andiamo a vedere il lessico della cavalli che aspetteresti un lessico, un espressionismo travolgente, un Pagliarani, un Sanguinetti, un Porta, un Nandi Balestrini, niente di tutto questo. È un lessico colloquiale. Siamo sulla falsariga di quella linea che parte da Gozzano, tocca penna, tocca caproni e va avanti così. Quindi una linea in cui il lessico lo vedremo leggendo queste poesie è sostanzialmente, non voglio dire un lessico banale, tutt'altro, perché ci sono anche delle parole tecniche, ma sono parole tecniche che si inseriscono perfettamente nel discorso, non sembrano la ricerca di un effetto, per esempio l'analogia è quasi eliminata dalla cavalli, non è una figura retorica che lei utilizza ed era la figura retorica del simbolismo, del tardo-nomanticismo, era una figura retorica che era diventata più comune dai maledetti francesi attraverso gran parte del nostro novecento e lei non lo usa. Lei quale figura retorica usa? Per esempio una che ha un nome molto complicato ma che è molto banale, cioè l'epanadiplosi, il fatto di ripetere la stessa parola in più contesti, cioè oppure l'omoteleuto, cioè fare delle rime che non sono rime in fondo al verso, ma sono rime al mezzo, riprendere la parola iniziale, riprendere la parola nel mezzo, cioè figure della ripetizione, quasi a fare un effetto che diventa qua e là ipnotico, in un modo che anche la Rosselli aveva sperimentato, tutto il mondo è vedovo se tu non sei con me e tutto il mondo è vedovo perché tu non sei con me, quindi questo gioco ipnotico vertiginoso, ecco lei lo fa ma non lo fa con il linguaggio che perde di senso della Rosselli, lo fa con un linguaggio che è comunicazione e anche comunicazione molto diretta, è molto difficile la Cavalli perché è molto semplice, è paradossale questo, nel senso la Cavalli ti lancia il suo messaggio direttamente, lo sapete che è stato scelto come punto di riferimento della Cavalli? un poeta del 300 un poeta della fine del 200 cioè Guido Cavalcanti il poeta fra tutti che era il più filosofo e infatti le questioni che pone la Cavalli sono questioni magari legate alla neuroscienza che è quello che oggi mette molto spesso in contatto la poesia cioè la poesia è il frutto di reazioni chimiche è il frutto di abbassamenti oppure crescite di alcuni minerali all'interno del nostro sangue come funzionano le sinapsi? ebbene questo è il discorso filosofico scientifico di base e lei ci scrive sopra una poesia in cui in cui tratta il tema ma lo fa con parole estremamente semplici io vi darò un esempio in una delle poesie che abbiamo scelto adesso ecco la Cavalli oltretutto ultima cosa ha pubblicato pochissime raccolte di poesia ne è uscita una l'anno scorso vita meravigliosa poi c'era datura del 2013 nel 2006 c'era pigre divinità e pigre non mi ricordo però pigre divinità nell'inizio cioè esce un libro della Cavalli ogni 7-8 anni qualche volta anche ogni 10 un unico libro di Porosa che è stato anche finalista a vari premi letterari che è con basso i giapponesi in cui direi prose liriche comunque è sempre una prosa che si avvicina musicalmente alla poesia quindi anche lì è una Cavalli disponibile come posso dire è incredibile perché le mantiene i generi apparentemente separati mantenendo le forme metri che mantiene dentro la misura le strofe in una certa maniera poi però dall'interno sembra rovesciare il discorso sembra in qualche modo scardinare la tradizione poetica dall'interno ora vediamo con alcuni esempi e andiamo a fondo ecco ora ecco Conci dice scusatemi Cavalli Cavalcanti eh beh ha ragione lei è carino questa cosa andiamo a leggere Datura da Datura questa poesia che appare proprio in copertina sì è la poesia di copertina esatto così schiava che roba così barbaramente schiava e dai così ridicolmente schiava ma insomma che cosa sono io meccanica legata ubbidiente in schiavitù biologica e credente basta scivolo nel sonno qui comincia il mio libero arbitrio qui tocca a me decidere che cosa mi accadrà come sarò quali parole dire nel sogno che mi assegno è bellissima la divisione della poesia hai visto quello che ti dicevo c'è il così anaforico all'inizio e poi però c'è schiava che è epanadiplotico cioè un epanadiplosi la stessa parola che si ripete in più occasioni altra cosa che volevo dire c'è quello che è chiamato moteleuto quando c'è ubbidiente che fa rima non ricordo se consenziente o comunque con una parola sempre in ente e quindi anche lì si crea questo effetto fonico ma in realtà cosa sta dicendo la Cavalli che la condizione della donna è una condizione da schiava ridicolarmente da schiava e che lei è ubbidiente alle leggi che tengono questa donna schiava dove si libera nel sogno è lì che fa le regole lei è lì che il mio libero arbitrio può agire lì mi faccio le regole da sola lì mi assegno il sogno che voglio lì sono assolutamente libera ma vi rendete conto dell'ironia di questa situazione perché si è liberi dove non ha senso essere mentre dove ha valore essere non si è liberi si è schiavi si è schiavi e quindi la condizione della donna ancora oggi questa è una poesia mi pare del 99 raccolta in poesie e questo è una condizione no questa scusami è di datura è del 2013 è del 2013 la condizione della donna resta una condizione assolutamente negativa assolutamente legata a un ruolo di ubbidienza che è terribile da questo punto di vista di schiavitù di oppressione non viene mai nominato il maschio ma pensiamo a quello che hanno scritto l'Abreo la Valduga su questo pensiamo anche a quello che ha detto la Gualtieri cioè il ruolo della donna è un ruolo secondario la libertà che la Cavalli trova è una libertà immaginaria nel sogno lì la donna è padrona di se stessa c'è anche un'ironia perché se vi ricordate Freud uno dei più grandi maschilisti di tutti i tempi dava la colpa della crisi della società alla donna con l'isteria e quindi il sogno in realtà era il luogo dove la donna mostrava le sue problematiche le sue difficoltà la sua incapacità di adeguarsi al mondo di conformarsi al mondo quindi anche qui c'è un discorso Freudiano è però un discorso Freudiano negato cioè come a dire no nel sogno ho la piena libertà nel sogno sono io che faccio le regole purtroppo solo nel sogno hai visto che il lessico è un lessico molto semplice non è un lessico complicato no no non è ricercato è molto molto semplice ecco adesso leggo le due poesie magari le leggo assieme e poi la ultima considerazione è così chiudiamo questa serata stupenda ecco quest'altra poesia io scientificamente mi domando come è stato creato il mio cervello cosa ci faccio io con questo sbaglio fingo di avere anime pensieri per circolare meglio in mezzo agli altri qualche volta mi sembra anche di amare facce e parole di persone rare esser toccata vorrei poter toccare ma scopro sempre che ogni mia emozione dipende da un vicino temporale fantastico eh sì bene vediamo un po' come fiorisci come ti apri di che colore hai i petali quanti pistilli hai che trucchi usi per spargere il tuo polline e ripeterti se hai fioritura languida o violenta che portamento prendi dove inclini se nel morire infradici o insecchisci avanti su io guardo tu fiorisci beh fantastica questa allegoria finale della condizione di vita in cui la poetessa parla a a un essere evidente che probabilmente la donna stessa che viene osservata che viene giudicata che gli viene comandato di agire ci sono tantissimi mentre prima c'era la neuroscienza il cervello che dipende da un vicino temporale cioè in realtà noi siamo legati a tutto ciò che ci circonda siamo delle reazioni chimiche siamo in qualche modo anche la mare può diventare una reazione chimica quindi è veramente sconvolgente come parlando in modo estremamente semplice la cavalli affronti tematiche che sono filosofiche a un certo punto dice quasi parla degli spiriti che stanno dentro di lei parla di di anime che stanno dentro di lei e questo è Cavalcanti e Cavalcanti quando Cavalcanti diceva che dentro di lui c'erano degli spiritelli che decidevano per lui quindi è veramente è piena di citazioni l'ultimo quando dici avanti su eh avanti su fiorisci eh quell'avanti su avanti su ricorda Zanzotto quando il mondo si buono gli faceva avanti su Munchausen datti da fare la Cavalli è una profonda lettrice è una ladra di tutto ciò che viene fatto lo prende e gli dà un tocco che è tutto suo perché in realtà tutte queste citazioni questi riferimenti sono ammaestrati da una che la parola la gestisce con incredibile semplicità dicevano i traduttori che è difficilissimo tradurre la Cavalli in un'altra lingua perché certi giochi che fa vorrei toccare non essere toccata cioè certi giochi che fa poi dal punto di vista musicale e lessicale in un'altra lingua si perdono mentre lei giocando così riesce un italiano a darci delle emozioni clamorose veramente straordinarie io la candido al Nobel non conto nulla la candido pure io allora io sono veramente meravigliato questa sera vi ringrazio per tante persone sono collegate david e quindi ringrazio tutti coloro che si sono collegati grazie sempre alla disponibilità di davide la mantia grazie per questa serata ciao mattia grazie a te di tutte le tue letture meravigliose e poi ecco il nostro sarà il prossimo ultimo incontro martedì 21 dicembre dove ci presenteremo con il capul il babbo natale anche capello da elfo metto gli elfi così esatto e dove parleremo di Giorgio Caproni di Sandro Pene chiuderemo questo passeggiando nel novecento io intanto vi voglio dare la mia buonanotte vi ringrazio e vi abbraccio ciao a tutti potete rivedere poi la diretta ecco grazie a tutti grazie a Mattia e grazie a tutti voi ciao ciao